Due scienziati di nome Montagnier e Gallo, indipendentemente nei loro laboratori, giunsero alla conclusione che il virus dell'HIV è la causa dell'AIDS, ma ciò non convinse appieno un altro scienziato famoso per aver inventato la tecnica della PCR, della Polymerase Chain Reaction, cioè Mullis. Mullis disse che non ci sono esperimenti che possono portare con certezza a questa conclusione, affermando che Montagnier e Gallo avevano semplicemente trovato in alcuni pazienti affetti da AIDS traccia di una precedente infezione da parte di un agente patogeno che era probabilmente l'HIV e avevano scoperto gli anticorpi contro il virus. Ma gli anticorpi contro certi virus erano sempre stati considerati segno di malattie precedenti e non di malattie in corso. Gli anticorpi indicano che il virus era stato sconfitto e che il paziente era salvo. Negli articoli non si diceva nulla riguardo al fatto che questo virus provocava una malattia, né risultava appunto che tutte le prove con anticorpi nel sangue fossero certe. E in effetti sono stati trovati anche anticorpi nell'organismo di individui sani. Se Montagnier e Gallo non erano riusciti a trovare queste prove, perché i loro articoli erano stati pubblicati, diceva Mullis? Nessuno ha mai spiegato perché l'HIV provocasse l'AIDS secondo Mullis. Conviviamo con tantissimi retrovirus che sono vecchi almeno quanto la razza umana e alcuni di essi li riceviamo anche dalle nostre madri attraverso meccanismi di migrazione dalla madre al feto e alcune anche delle sequenze del nostro genoma sono fatte di retrovirus. Alcune possono somigliare all'HIV, ma non è mai stato dimostrato secondo Mullis che potessero uccidere qualcuno. Ci deve essere quindi una ragione che giustifichi se vogliamo la loro esistenza. Perché infatti il nostro genoma ha queste sequenze retrovirali endogene? Diciamo che Mullis ha sollevato delle belle domande e delle belle ipotesi. C'è chi sostiene che alcune porzioni del nostro DNA siano inutili, il cosiddetto DNA spazzatura. Ma secondo Mullis chi sostiene ciò ha torto. Se nei nostri geni c'è qualcosa c'è un motivo. Il nostro organismo non permette che si possano sviluppare elementi inutili. L'HIV non è saltato fuori all'improvviso dalla foresta pluviale di Haiti. È semplicemente finito nelle mani di Gallo nel momento in cui aveva bisogno di una nuova carriera. HIV è sporadicamente distribuito ovunque, non solo nelle foreste pluviali, ma anche nelle grandi città. Gli anticorpi dell'HIV spesso li ereditiamo da nostra madre e non ci sono segni di malattia. Una donna HIV positiva, se sviluppa un tumore all'utero, la si considera malata da IDS. Un uomo HIV positivo, se ha la tubercolosi, si considera malato da IDS. Ma se è HIV negativo, è malato solo di tubercolosi. Secondo Mullis, la Glaxco, principale azienda farmaceutica del mondo, ha prodotto l'Azateopina, che come per i chemioterapici del cancro, è in grado di uccidere le cellule e di impedire loro di potersi riprodurre attraverso il blocco della replicazione del DNA e quindi in questo modo permette di uccidere, diciamo, l'HIV. L'impiego di questi farmaci per il cancro può avere però una giustificazione quantomeno logica, ma ecco come in questo caso invece si giustifica il tutto. È simile alla vecchia terapia a base di arsenico che si usava contro la sefilide. La sefilide probabilmente avrebbe ucciso il paziente e l'arsenico avrebbe potuto ucciderlo anche, ma in qualche caso avrebbe anche potuto uccidere prima il treponema pallidum, agente patogeno responsabile della sefilide, consentendo al paziente di poter sopravvivere. L'uso di chemioterapici tossici contro il cancro si basa sullo stesso principio. È una scommessa nuda e cruda. Il cancro uccide praticamente, la chemioterapia uccide, ma talune volte uccide prima il cancro della persona. Si deve somministrare infatti una dose forte, da arrivare quasi ad uccidere il paziente, sperando che sia sufficiente ad eliminare il tumore e non ad uccidere il paziente. Alcuni però guariscono dal cancro dopo la chemio, altri no. La zatioprina blocca lo sviluppo di tutte le cellule a crescita rapida del corpo umano, inclusi i linfociti CD4. L'HIV è possibile che venga eliminato, ma nessuno è mai stato guarito invece dall'AIDS. Altri ora prendono un altro farmaco, un inibitore delle proteasi. Ma che effetto ha? Beh, i produttori quando hanno iniziato a venderlo non lo sapevano. Questa è l'ipotesi di Miollis molto contestata dalla comunità scientifica, perché ha assunto delle posizioni completamente diverse. Infatti lui rappresenta una sparuta etnologia, ma in realtà oggi è accertato scientificamente che l'HIV è la causa dell'AIDS, perché il virus dell'HIV, essendo un retrovirus, riesce a deludere il sistema immunitario dell'ospite e a distruggere i linfociti T. In questo modo ovviamente nel corso del tempo provoca un immunodepressione che predispone il paziente all'AIDS e quindi ad avere infezioni opportunistiche e tumori.